Allora, oggi ci sarà un emozionante scontro. Il ninja d'oro contro Kai, ninja del fuoco. Il primo round. È una parità, un botto di tuono. Si ritira. Appena avrò il momento. Ecco. Oh, è volato un pezzo dell'armatura di Kai. E uno dell'armatura... Uno di Kai. E uno dell'armatura del ninja d'oro. Una mossa tonante. Ora rimontiamole. A quanto pare questi due ninja non vogliono scatenarsi. Ma ora li faccio scatenare io. Prima partenza di Kai. E ora... Partenza del ninja d'oro. Come andrà? Oh! Il ninja d'oro straccia Kai al primo round. Ma adesso Kai avrà la sua vendetta. Con un potenziamento da paura... Oh! Scusate. Vincerà la gara. Vediamo. Allora. Metto il ninja d'oro in posizione d'attacco. Cioè con la spada al lato. E... Kai ha la posizione di difesa. Ora li faccio partire. Primo... È Zain che parte male. Scusatemi. Ora... È Kai. Molto infuriato per la... Perdita. Uh! Come va? Secondo me non fanno un bel niente. Tranquilli. Non vi dico la verità. Non lo so. Ok. È andata piuttosto bene. Per Kai. Secondo giro. Ops. È volato dalla stanchezza. Wow! Ma che... È una mossa senza senso. Una ribellione. Sistemiamoli. Questi due tosti. Voglio vedere come va. Allora. Prima parte Kai. E ora... Il ninja d'oro. Vediamo un po'. Come va, come va. Ancora non si toccano. Wow. E vai! E Kai colpisce il ninja d'oro a tutta velocità. Ultimo round. Chi vincerà avrà un premio speciale. La vasca del C. Lo so che non fa parte del cartone. Ma che fa parte di Legends of C. Però è pur sempre un buon premio. Primo a partire è Kai. Il ninja d'oro ha spazzato via. E il campione di oggi è Kai. Che riceve... Che riceve... Un bel po' di C. Alla prossima. La prossima sarà una battaglia contro... Un bel serpente... E Kai, il vincitore. Ciao, ciao!